Famiglie con figli minori disabili, una realtà che anche in Toscana presenta aspetti preoccupanti. Le politiche sociali è un ambito nel quale gli antipubblici, a qualsiasi livello, sono chiamati a fornire risposte. Sulla questione si segnala un intervento dell'assessore alle politiche sociali di Castiglion Fiorentino, Stefania Franceschini. Franceschini commenta il mancato rinnovo da parte della Regione per il 2024 del contributo finanziario a favore delle famiglie con figli minori disabili erogato ogni anno dal 2016. Contributo che ammontava a 700 euro in base all'ISEE e che andava richiesto al comune di residenza. Una situazione che ci rammarica, conclude lo stesso assessore Franceschini. Considerati l'attenzione e l'impegno che il comune di Castiglion Fiorentino ha sempre espresso in termini di sostegno alle famiglie con bambini disabili o con bisogni speciali. A dimostrarlo è la continuità che è stata accordata al progetto della ludoteca abilitativa Peter Pan che dallo scorso 15 gennaio ha riaperto le porte dopo la positiva esperienza dell'anno scorso.